La vitamina D, un ormone dotato di azioni pleiotropiche, e questo è il titolo di un convegno di alto livello scientifico organizzato a Torino nella splendida cornice del Castello di Valentino, un edificio costruito a partire dal XVI secolo che attualmente ospita la Facoltà di Architettura. Parliamo della correlazione tra deficit di vitamina D e patologie infettive, soprattutto tubercolosi e HIV con il professor Di Perri che ha tenuto una lettura proprio su questo tema. Professore, tanti anni fa le persone con tubercolosi le si mandava in sanatorio, oggi per fortuna disponiamo di armi molto più efficaci e molto più sofisticate, però il concetto del sole sta tornando fuori prepotentemente, ci sono sempre maggiori evidenze di un effetto positivo della somministrazione di vitamina D nei pazienti affetti da tubercolosi. Innanzitutto, professore, è vero questo fatto e qual è il razionale farmacologico di questa attività? Insomma, questa è un'associazione che ha un suo passato letterario corposo, ma elusivo fino a pochi anni, nel senso da un punto di vista metodologico c'erano moltissimi report soltanto che diciamo carenti da un punto di vista di quella che è poi il rigore che garantisce un certo tipo di affermazioni. Recentemente è stato ripresa l'interesse sulla vitamina D come potenziale farmaco coadjuvante in funzione di tutta una serie di evidenze che hanno portato allo sviluppo di trial clinici, cioè di studi clinici comparativi randomizzati in doppio cieco che hanno dato dei risultati la cui garanzia, diciamo da un punto di vista interpretativo, ammette oggi di poter affermare che la vitamina D, almeno in determinate circostanze, forse in pazienti selezionati, può essere un coadjuvante significativamente più attivo nella terapia antitubercolare. Qual è l'effetto? L'effetto è quello probabilmente di accorciare i tempi terapeutici o comunque velocizzare la guarigione e andare a modulare in maniera favorevole anche quei fenomeni di tipo flogistico a livello tessutale che poi in ultima analisi determinano lo stato istopatologico finale della tubercolosi che talvolta è estremamente penalizzante per organi come i polmoni in particolare ma anche per le sedi extrapolmonari. Ecco, è già stato scoperto il meccanismo d'azione dell'effetto della vitamina D oppure ancora progetto di studio. Ma sostanzialmente si ritiene che ci possa essere almeno un meccanismo il cui ultimo braccio effettore sarebbe di tipo microbicida. Effettivamente c'è un cammino disegnato a livello molecolare dell'incontro fra antigeni tubercolari, cellule dell'asse monocito macrofagica ma non solo ma anche cellule epiteliali del polmone, dell'intestino, della placenta, della pelle stessa che a un certo punto avvertono il segnale della presenza di antigeni tubercolari. Questi determinano in ultima analisi l'aumento della sintesi della vitamina D3, l'1,25 di idrossicole calciferò che si associa poi all'inultima analisi, alla produzione di una sostanza antimicrobica di tipo peptidico detta catelicidina che sembra aumentare in effetti quella che è il potere delle cellule monocito macrofagiche di annientare i micobatteri contenuti a livello dei sacchetti lisosomiari. Poi all'atere di questo c'è anche chi ipotizza un meccanismo di rinforzo di tipo immunomodulante più genericamente attribuibile magari a una migliore presentazione dell'antigene da parte delle cellule effettrici. Ecco, in questo tipo di pazienti, professore, la vitamina D la state già utilizzando oppure aspettate di avere evidenze più consistenti? Devo dire, per un interesse maturato parallelamente nell'area dell'infezione HIV, per l'influenza culturale, dottrinale che abbiamo subito da alcuni colleghi endocrinologi, la somministriamo non solo ai pazienti con tubercolosi con o senza infezione HIV, ma cominciamo anche a prendere a noi regolarmente ogni settimana. Per cui effettivamente da questo punto di vista sì, è economicamente una sciocchezza da un punto di vista se confrontato ai farmaci antiretrovirali, per cui da questo punto di vista, almeno nell'area HIV, se ne fa oggi un grande uso, anche perché per la vivacità di un gruppo di studio di Bologna che fa riferimento a colleghi che si sono occupati in particolare di questo aspetto e quindi diciamo che c'è attenzione. E con l'HIV cosa succede con la vitamina D? Si accelera la guarigione, si aumenta un po' la risposta terapeutica, qual è l'effetto? Ma diciamo che il ripristino dei livelli di vitamina D per adesso non è stato associato ad alcun fenomeno macroscopico, anche perché diciamo il denominatore in termini terapeutici è rappresentato da una terapia di grandissima efficacia che da questo punto di vista non lascia particolari soluzioni di continuità. Diciamo che nell'infezione da HIV, o più che nella popolazione generale, avvertiamo dei vari studi una carenza vitaminica particolarmente significativa. Considerando che qui vanno a intersecarsi anche fenomeni di tossicità della terapia antiretrovirale, fenomeni degenerativi, flogistici legati all'infezione da HIV stessa o comunque alla vita umana, nel senso che si tratta dell'invecchiamento sostanzialmente nelle sue varie forme, però abbiamo per esempio una maggiore incidenza di sindrome metabolica e qui la vitamina D potrebbe avere un ruolo importante. Abbiamo una maggiore incidenza di malattie cardiovascolari ed ecco che la vitamina D abbiamo sentito anche in questo convegno essere in causa e un potenziale fattore modulabile per migliorare le prospettive. Quindi diciamo che è un panorama abbastanza interessante in grande evoluzione. In un sanatorio tascabile del terzo millennio. Insomma credo che sia un intervento a basso costo, a bassissimo rischio sul piano degli effetti collaterali e potenzialmente molto valido. Certamente per poter meglio descrivere gli effetti, il miglior risultato raggiungibile, gli studi in corso e altri dovranno esserne fatti, dovranno essere effettuati. Grazie